Ciao this video, ringrazio Braida per avermi taggato per il video delle 5 cose ovvie. Allora, prima di parlarvi delle mie 5 cose ovvie che dirò, vorrei citare due aforismi di Arthur Conan Doyle, quindi lo scrittore di Shakespeare, che diceva Il mondo è pieno di cose ovvie che nessuno si prende mai la cura di osservare. Ed un'altra è Niente è più innaturale dell'odio. Che poi nel film di Guy Ritchie su Sherlock Holmes è stato modificato in Nulla è più sfuggevole dell'odio. Partiamo subito con le mie 5 cose più ovvie. 1. Non ci sono più le mezze stagioni. Ragazzi, vi ricordate quando c'era la prima, la esta, l'auto, l'inve? 2. L'importante non è vincere ma partecipare. Sì, lo diceva De Coubertin e insomma, in effetti, cioè se voi non partecipate a un contest, come fate a vincere? Quindi vi dico che il mio contest è ancora, dura fino al 3 maggio, è quasi finito, ma se volete vincere almeno dovete parteciparvi. Che poi anche se è una frase banale dire che l'importanza non è la vittoria, ma la certezza di essersi battuti bene, secondo me ci sta sempre, dai. Terza frase ovvia. La salute è il bene più prezioso. 43, 43, chi ha il numero 43? Ah, ce l'ho io, ce l'ho io il 43. Buongiorno. Allora, mi serviva un etto di crudo, due etti di cotto e poi... Allora, due fette, ma proprio due fette sottili e invisibili di salute perché costa troppo. La quarta cosa ovvia è... Tu stai guardando un video in questo momento. Eh sì, eh cavolo, cioè, a meno che tu non sei lì che... Ah, sì, messaggio... Ah, sì, cosa c'è? Ah ma guarda, ci avevo aperto un video. Ah, che video aperto. Ah ma questo qua si era aperto da solo, io stavo guardando il video prima. The last but not the least, l'ultima, l'ultima cosa ovvia è... Che presto ti dirò di mettere like a questo video. Aspettiamo un secondo. Va bene. Metti like a questo video! Oh, è che spudato! E se io adesso mi mettessi a cantare una cosa improvvisata? La mucca è un animale saggio Caga sia in aprile che in maggio La mucca è un animale straordinario A volte vola anche sul lampadario E cavolo c'è, ma le mucche non volano soprattutto sul lampadario La cosa improvvisata Fa proprio cagare Però, questa cosa era per farvi vedere una cosa Cioè, tutto ritorna, tutto ritorna Perché, se ci pensate bene Il mio canale è sviluppo in 74 Quindi, questa cosa Io che canti Cosa c'è di strano? Cosa c'è di... Non c'è bisogno di spiegazioni Perché io mi metto a cantare da un momento all'altro Perché è... Ovvio Ciao No, no, cavolo Devo taggare le persone Devo taggare a mia volta Scusate, io stavo già salutando Mi sentivo sbaglio in questo momento Ok, va bene Dunque Taggo Matteigno Matteigno Matteigno, per esempio Perché così fa un video diverso da Clash of Clans ogni tanto Lo saluto tanto perché è grandissimo Poi ti voglio bene Ciao, grazie E poi... E poi chi taggo? Taggo Di Paolo se lo vuole fare Taggo Coffee Games E poi taggo... Quante persone posso taggare? Taggo anche Witherboy se lo vuole fare Perché no? Ah, giusto Taggo anche Yagd Chi vuole fare? Johnny, Donito Chi lo vuole fare? Ciao, ciao, ciao Svvideos Ciao